Perché molti istruttori di cani utilizzano la razza border collie? Dobbiamo dire che a parte l'aspetto estetico che può piacere o non piacere, peraltro il border collie è anche un lupoide molto interessante, molto bello morfologicamente, ma ha una particolarità, un grandissimo cervello. Voi sapete che il border collie cogiunga alte capacità di apprendimento a un alto tasso di addestrabilità. Sono proprio questi due parametri più importanti. Le capacità di apprendimento consentono al cane di memorizzare, incamerare, fare proprio, ricordare, rievocare. Il tasso da addestrabilità significa rispondere con comportamento specifico a stimolo segnale specifico, a comando specifico. Bene il border collie eccelle proprio in questo, perché anche il gatto è molto capace di apprendere, le sue capacità di apprendimento sono altissime, è un po' più basso il tasso di addestrabilità ed è questo che lo frega rispetto alle capacità di apprendimento del cane. Sono simili a quelle del gatto, vicine perlomeno, ma è il tasso di addestrabilità che cambia. E' proprio questo che fa la differenza anche razziale tra diverse razze. Alcuni cani hanno ottime capacità di apprendimento, ma un tasso di addestrabilità inferiore. Ricordo che Stanley Coren negli anni 85-86 scrisse un libro dedicato proprio alle razze più addestrabili, le borde al collie. Al numero uno, al numero due era segnalato il barboncino, che peraltro viene utilizzato in ilotempore anche negli ambiti circensi. Pensate che anche il polpo, l'animale che vive nei fondali marini, ha altissime capacità di apprendimento, ma tasso di addestrabilità zero, perché lui diventa verde come le mangrovie, diventa grigio come le rocce, gli scogli, eppure non può obbedire a nessun stimolo o segnale che gli viene prodotto dall'uomo. Il cane è un eccellente elemento che sa costruire le due cose, il border è veramente speciale per questo. Alte capacità di apprendimento, alto tasso di addestrabilità. Ma non perdetevi i miei tutorial, sono quelli che vi possono far migliorare il rapporto con il vostro cane. Aspetta! Fai già parte della nostra community? Iscriviti su www.bowboys.tv. Potrai fare tutte le domande che vuoi ai nostri esperti!